Nole, 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 nolebo Nole, 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 nolebo Aperitivo inclusivo Allora la prossima settimana siamo più giocosi e quindi anzi saranno più giocosi perché ci saranno Simonetta e il nostro caro Renzo che abbiamo già sentito nella puntata What Win and Won't e ci parleranno di un noto tema caro a tutte le donne e non caro a tutti gli uomini e cioè donne motori, gioie e dolori sappiamo bene quanto gli uomini sulle donne con questo argomento ci hanno criticato da sempre quindi sarà una puntata a giù cosa è divertente Sì, anche perché non parleremo solo del luogo comune che la donna non è capace a guidare che l'uomo è più bravo ma Renzo che è molto bravo che sta preparando un qualche cosa di estremamente interessante con delle informazioni tuzzicanti con dei dati andando indietro nella storia quindi venite a passare un'oretta nel nostro salottino con il nostro aperitivo e il primo venerdì sempre alle 30 sempre qua sul canale YouTube aperitivo inclusivo